Raffaello Navigazione. Trasferimenti ed escursioni. A Venezia e Isole. Murano. Burano. Torcello. Raffaello Navigazione. Trasferimenti ed escursioni, in Laguna Veneta. La Raffaello Navigazione, con una moderna e prestigiosa flotta di motonavi, accompagna i suoi ospiti, tra le incantevoli bellezze di Venezia, e gli angoli più suggestivi della Laguna Veneta. Raffaello Navigazione. Partenze tutti i giorni, da Chioggia Sottomarina, verso, Venezia e Isole.